E' stata pubblicata la procedura di gara per i lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di concilio sito in via Taverne ad Agropoli. L'importo complessivo, base d'asta, è di 250.526 euro, oltre IVA, mentre la tempistica di intervento è pari a 180 giorni. I lavori sono finanziati a valere sul Fondo Sport e Periferie. Mirano a risolvere alcune problematiche a carico della struttura sportiva inaugurata circa dieci anni fa, che nel corso dell'anno, periodo della pandemia a parte, ospita una serie di eventi sportivi relativi a diverse specialità, quali danza, arti marziali, basket ed altro ancora, al fine di renderla più confortevole e funzionale. In particolare sono previsti rifacimento facciate con interventi di coibentazione di tipo cromatico, adeguamento impianto trattamento aria condizionamento, rifacimento linee pluviali con coinvoiamento acque piovane, pulitura e lucidatura a parche e aria di gioco, rimontaggio tribune, parte posteriore e canestri con ampliamento posti a sedere e sistemazione esterna. Un intervento atteso e che non è il solo programmato dall'amministrazione Coppola, che punta a riqualificare anche il campo pulito in località Mattine. In questo caso l'appalto è in fase di aggiudicazione. La spesa è di 700.647 euro oltre IVA. I lavori consisteranno nella messa in opera di erba sintetica sul rettangolo di gioco, che oggi si presenta in terra battuta. Inoltre verranno rifatti gli spogliatoi e la recensione. Due appalti importanti per il settore sport, afferma il sindaco Coppola, a breve prenderanno il via. Investimenti per oltre un milione di euro per ridare lustro al palla di concilio, risolvendo alcune criticità emerse nel tempo e restituire dignità al campo pulito, che potrà essere utilizzato per gli incontri ufficiali fino alla prima categoria ed entrare nel circuito dei tanti impianti sportivi di cui è dotata la nostra città. Sperando di uscire presto dalla pandemia, dichiara il consigliere con delega allo sport Giuseppe Cammarota, avremo due strutture pienamente funzionali per ospitare eventi sportivi.